Fantozzi contro tutti. Fantozzi contro tutti è un film comico del 1980 diretto da neri parenti, Paolo Villaggio, con Paolo Villaggio, Giuseppe Anatrelli, Milena Vucotik, Gigi Reader, Camillo Millic, Paul Müller, Plinio Fernando, Angelo Pellegrino, Pietro Zardini. Trama. Il ragionier Ugo Fantozzi si reca in una clinica per dimagrire, che in realtà si rivela un lager dove si viene incarcerati giorni senza alcun cibo. Scampato a questa tragica avventura, Fantozzi torna a casa per scoprire che sua moglie Pina si è innamorata di un altro uomo, il nipote del fornaio di nome Cecco. Infine, il viscunte Cobram, con il disappunto di tutti, arriva al comando della mega ditta dove lavora Fantozzi, ed essendo un fanatico del ciclismo obbliga tutti i suoi dipendenti a partecipare ad un'amicidiale gara in bici, la Coppa Cobram. Recensione. Fantozzi contro tutti, ovvero Fantozzi 3, è il seguito del secondo tragico Fantozzi. Em, Fantozzi. Altro film, altro successo. Comicità italiana da altri tempi, dopo tutto siano negli anni 80, che sa far morire dal ridere con poco. Dopo una pausa di quattro anni dall'ultimo film, Fantozzi, o meglio Paolo Villaggio, dimostra di saper interpretare ancora più che egregiamente il suo miglior personaggio di sempre. La citazione più famosa, il mega presidente è uno strong.